Ci sono in corso vari progetti, vari lavori da portare avanti, tra cui a breve, a brevissimo perché è stato già giudicato, ci sarà finalmente la riqualificazione dell'astricato del percorso delle scale mobili dello Spirito Santo nel parcheggio, perché evidentemente come erano sistemate sin oggi non andavano bene e abbiamo ritenuto anche per un fattore di decoro portare avanti un nuovo progetto togliendo una parte del percorso, mettendo dell'astricato, migliorando l'aspetto non solo estetico ma anche funzionale del percorso delle scale mobili. Poi ci sarà la riqualificazione di tutto il parcheggio dello Spirito Santo e via in progetto anche il parcheggio del mercato vecchio. Quindi diciamo che non siamo fermi, stiamo andando avanti. Per quanto concerne i PNRR abbiamo già presentato la richiesta del finanziamento per il parterra Cortona, abbiamo ancora i finanziamenti per Camuscia, una parte peraltro sono stati già presi. E quindi diciamo che il 2022 sarà un anno della svolta per i lavori pubblici. Una cosa importante è il parterra, perché è sempre stata una zona stupenda di Cortona, però un po' dimenticato. Sì, forse non dimenticato. Diciamo che per manutentare una zona come il parterra occorrono tante risorse economiche. Un giardino storico, un giardino che abbiamo tutti a cuore come cortonesi evidentemente. Adesso il bando PNRR ci permetterà finalmente di riqualificarlo, però bisogna anche essere corretti. Già una parte è stata riqualificata come l'anfiteatro del parterra, l'illuminazione che è stata sostituita da poco. Cioè non è che abbiamo mai abbandonato il parterra, è che per portarlo come opera di mantenimento, a compimento, soprattutto in termini di manutenzione, occorrono denari. Quindi adesso il PNRR ci consentirà fortunatamente di portare a decoro il nostro bellissimo giardino storico di Cortona.